video naso 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 cr7 a naso per i soldi fino al 2030 in arabia io sushi 49 95 con lo sconto naso 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 lietamami nel naso i ramacchi nel naso 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 di sashimi naso 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 che si andò con aldo ha scelto il grano a naso per i soldi io 49 95 in due per per un pesce finto cinese cresciuto nelle pozzanghe del lago di como con i fagioli di soia che mi creano aereofagia naso 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 video naso smr video naso invece invece lui sceglie nella fresca e firma per gli arabi va a giocare con garcia naso garcia naso andy garcia no no rudy naso naso garcia siamo nel 2022 oggi un bel video naso perché con raffreddore un video naso naso l'acqua col sale nel naso non mi ha fatto un cazzo stavolta naso 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 e quindi prende un miliardo giocherà in questa squadra di polli dove c'è luis gustavo 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 la pizza remo la barca guido la vespa gustavo la pizza avvocato massimo della pena quindi giocherà con gustavo brasiliano con l'altro come si chiama oh madonna mia ti va bene non mi viene poi c'è bovaccaro ha fatto anche gol con brasile o assist gol con brasile o assist con la serbia e rudy garcia il natore vanno in arabia una squadra che tanto è pure seconda in campionato e seguita sì e giocherà in questa squadra dm che non vuol dire 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 message e non vuol dire vuol dire esatto la squadra dm naso 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 pieno di soldi naso 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 nas adesso c'ha 36 37 quindi tra otto anni ne avrà 50 c 50 c scusami scusate video naso naso ASMR bico rico a 45 anni avrà un patrimonio enorme e scusate stavo facendo dei calcoli ma sì esatto lui organizzerà i mondiali che dovrebbero essere negli stati uniti d'america tra quattro anni poi nel 2030 in arabia in arabia in arabia naso 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 come i cambelli della naso 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 alibaba e i 40 nasoni quindi lui ha naso per i soldi giocherà in un campionato beh dipende ecco anche la cina aveva iniziato bene con ramire spellet e tutti gli altri che sono andati poi hanno abbandonato però gli arabi c'è una diversità tra cultura cinese calcistica e anche generale quella dell'arabia secondo me in my opinion in my nose ok in my nose nose noisy nose noisy nose ok è fatto che è il momento rave si è rave no no allo stop vive rave ora il cinese imprenditore è ossessionato dal posizionare il suo prodotto nella fascia media ma questo l'hanno fatto anche in spagna con diverse marche che voi comprate io forse ho una maglietta di questa marca con la zeta spagnola perché la gente dice qual è il mercato il mercato è medio mediano cioè non ci sono né i barboni né i ricastri il mercato è medio basso io faccio un prodotto medio basso e così ha fatto questa marca spagnola di vestiti che inizia per la zeta come gli zarri che siete che siamo naso naso nara 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 con la n si dice no è un negozio nara comanda nara ora mentre il mondo imprenditoriale cinese ha l'ossessione per il prodotto medio il cellulare medio il massaggio medio il romantico il romantico massaggio medio non è un massaggio totale non è un massaggio basico massaggio mediano un romantico moderno i primi romantici però il romantico di oggi è un romantico che si posiziona in maniera mediana tra il massaggio scrauso e quello che comunque costa un botto quindi romantica idemi cellulare invece ma loro sono ma io li capisco il business è quello è se il 75 per cento della popolazione è rappresentata da chi acquista a livello medio basso e loro producono quella roba lì il porta cellulare che poi ti cade in macchina la pila che poi dopo un giorno non funziona il cellulare della chance ma non sono così per il culo è la ma lo dicono loro e io ho un sacco di amici qua della cina lo io ho avuto ho ancora un amico cinese ma amico cioè ci vediamo che lui ha provato a fare un ristorante e mi diceva io faccio su cinese ma faceva il sushi mi diceva io faccio il sushi giapponese sono cinese ma di livello totale e mi diceva io non mangio dove mangi tu e io gli ho detto naso 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 sushi di naso in che senso gli ho detto mentre lui tagliava una carota e faceva una costruzione tipo il lego con la carota e lui mi ha detto mio amico mirko io non mangerei dove mangi tu perché io il pesce che ti do è top questo è il sushi il resto è e feci e io ho detto è una donna zuppa di feci o feci la zuppa e mi ha confermato quello che io dico da sempre naso 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 che il prodotto dell'import editoria cilese è un prodotto medio quando invece acquistano perché sono i primi acquirenti per esempio dei vidi delle cantine italiane vogliono il top ma quando vendono ma fanno bene io no voi lo sapete insomma io ho un'agenzia di pubblicità che lavora abbastanza insomma abbiamo delle idee carine soprattutto lo sapete in questioni politiche campagna direttore però oltre a questo io ho investito in un bar gelateria anche all'estero e ho un prodotto top 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 cazzo chi mi ha fatto il naso non era top si è stortato e niente io sono troppo top per l'italia ho un prodotto troppo buono mentre per esempio lo posso dire tanto al mio socio a palma di mallorca lo stesso negozio franchising da me fa 10 a mallorca fa 100 1 a 10 1 a 10 ragazzi è un rapporto enorme pensate alle dimensioni del vostro naso 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 del pene 1 a 10 1 a 10 questo perché buba questo perché perché da noi il prodotto di classe di classe non è apprezzato e quindi l'errore mio l'errore mio è mio 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 l'errore mio che metto un prodotto top in un posto di merda di merda ok mentre loro mettono un prodotto medio in un posto medio mentre e questi sono i cinesi mentre gli arabi no gli arabi sono più dei ganassa gli arabi sono i milanesi neanche i lombardi sono i milanesi del mondo vogliono fare i fighi bauscia proprio la bauscia io sono ronaldo io faccio i mondiali in catare vedrai in arabia faccio faccio un mondiale che gli stadi mentre la gente gioca decollano capito quindi loro hanno sono dei ganassetta hanno voglia proprio di mostrare che sono il top quindi l'investimento su ronaldo non è uguale a quello di di pelleo di ramires o di quando lo solo yang su aveva preso capello eccetera capito questo per dire che da un lato seriamente naso 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 seriamente un cazzo naso capo naso da un lato non capisco ronaldo economicamente non gli sposta niente poi se gli piace il grano vabbè per quanto riguarda il resto esce dal calcio che conta va a fare l'imprenditore e quello lo capisco di più cioè nel senso se tu devi fare due anni dello sporting e poi nulla è un conto ma se ti hanno detto gioca qua e poi fai l'imprenditore allora sì allora un senso no però io non sono mai stato uno vabbè no poi parlerò parlerò dopo di pelè maradona messi ok per adesso vi dico che era un po che non c'era il video naso naso e magari dopo ne faccio un altro in asmr che le tipe che fanno schioccare così farò schioccare la bocca in asmr a meno schiocca a loro schiocca perché non so che cazzo ma come si alimentano vabbè poi vi spiego perché la bocca schiocca volevo dire simone a inzaghi che se tu mi permetti perché mi hai detto che stai lavorando sulla voce ascoltami bene io ti curo io fabio bergomi e mi dissocio non sono un medico ma ti porto un medico io ti curo la tua voce affona e impastata e sofferente in dieci minuti il problema di simone zaghi è il flusso gastrico perché la voce più urli e più ti viene bene perché sei urlo adesso che il vicino viene giù qua che cada il soffitto che naso naso capito non è il problema che tu surli urlato no il cazzo la voce va via per altri motivi comunque non pensate al finale del video pensate a quello che ho detto ronaldo al di là di tutto è uscito dal calcio che conta e quindi sostanzialmente mentre messi diventa campione del mondo lui diventa campione dei soldi e voi cosa cosa e voi cosa avesse scelto io nonostante sia un fallito e sono ossessionato dei soldi avrei scelto il calcio il calcio